Siamo al segno dei gemelli, l'una che transita nel settore della routine, del lavoro quotidiano, della vita di tutti i giorni, del rispetto anche che si ha del proprio corpo, perché quella è una casa molto interessante proprio per chi ha deciso di dedicarsi a delle cure estetiche per esempio, donata ideale per andare dalla manicure, anche se si tratta di domenica, dall'estetista per farsi un bel massaggio rilassante, perché no? È una luna questa che tende anche a rompere delle abitudini, quindi una domenica diversa dal solito.